Con Spani non si sbaglia mai. Due su due, due finali su due. Questa è da vincere. Questa è stata una squadra serie. Fratelli più scorsi in Europa. Eccoli, eccoli. Sono contento di scroccare il secondo viaggio a Enrico su due. E' andata questa amicizia. La squadra la faccio. La squadra la faccio. Ehi! Due su due. Due su due. No, faccio una patica anche lì. Due su due. Si sta cambiata. Una squadra rinnovata, giovani. Abbiamo una media dei premi. Faccio a pane se imbriamo. Faccio a pane se imbriamo. Va bene così, un ringraziamento speciale agli organizzatori. Si parla di una cordata. Dopo tante litigate. Sfano a pane, si parla di una cordata. Siamo pronti a fare tre su tre. Mi dispiace per sfanare e non riprovarlo sull'aereo quest'anno. Tutti a diva! Infatti i festeggiamenti sono contenuti. Tutti a diva! I festeggiamenti quest'anno sono contenuti per... Io penso sempre a sfanare. con la cosiddetta pippa in bocca. Con tutti però, pippa. E quindi niente. Pronto? Tuonizio! Ehhhhhhh! Che reggi giocco! Grazie.